Oggi è arrivata a Catania una nuova giocatrice, si chiama Mary Durugiaie, 22 anni, con una bella esperienza nel NCAA americana, dove si è messa abbastanza in luce, è una nazionale inglese under 20 con buoni risultati, questa riteniamo che sia una giovane abbastanza promettente che sotto la guida di Santino può fare benissimo. E un'ala pivot può giocare sia da 4 che da 5. Il roster ancora manca di un altro pezzo che stiamo cercando, soprattutto pensando a non sbagliare come è successo lo scorso campionato.